Divisione di... Terzo battaglione Quinta Marina. L'obiettivo non è qui. Era il suo primo giorno di lavoro. Ti spaventata, la faccio entrare. Tu sei la testemona. Non voleva. Sono 25 milioni. Devi promettere che mi proteggerai. Hai la mia parola. Diventasse l'ultimo. Qual è il piano? Prendere tempo e far fuori più uomini possibile. Security. Giovedì 21 e 20. Italia 1.